La grandezza, il fisico ci sta, l'età, la rognosità ci sta, il bestemme ci sta, ci sta un po' tu. E' toscano, come fa a non esserci roba estemme? Sta pure quello che ho andato a fare, sto non sa quello che fare. Alla non sa che azzurro. Ma no! Ma no, caccialo! E' toscano! E' toscano! Luco, diciamo fare la stessa fine. Ho una solita finta. E' chiusta? Ecco, è in brazzo. Nemmeno l'allenamento. Luco vince un guardabile. Si, si va a dire, stasera. Lei ha dimissione. Ti ha affatto, stasera. È clamoroso, stasera di dimissione. Papadogli. La squadra t'ho gestita come la sua mente. Guarda lui! E' bella la cattatalla. Vieni dietro! Vieni dietro! Non fa una sovrapposizione. Adesso hanno a rimparare a farle. Come si è finita del genere. E ho lo chiamato. Eh due avete giusto, però la palla èappa. Cante ganzie'si a me. Grazie.